E' stata eseguita ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo di Arafat Arfawi, il 31enne tunisino morto giovedì scorso in un money transfer di Empoli dopo essere stato colto da un malore durante un intervento di pulizia e 118. Secondo quanto appreso sul corpo del 31enne, il medico legale non avrebbe riscontrato evidenti segni di lesioni. Una relazione preliminare del medico legale dovrebbe essere consegnata in procura venerdì prossimo. Per quella finale il tempo previsto è di 60 giorni. Previsti anche esami tossicologici per accertare se l'uomo che era in forte stato di agitazione al momento del controllo avesse assunto sostanze che possano averli provocato uno stato di alterazione. Prosegue intanto l'esame dei filmati girati dalle telecamere di sorveglianza, ubicate dentro e fuori il money transfer. In base a quanto emerso gli occhi elettronici non avrebbero ripreso tutte le fasi del controllo. Al momento il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla procura di Firenze resta a carico di ignoti.